Gli imputati che a vario titolo si sono occupati dell'appalto di ristrutturazione post terremoto della questura dell'Aquila vanno condannati. Lo sostiene il procuratore protempore della Repubblica dell'Aquila Stefano Gallo in relazione alla sentenza assolutoria di primo grado sull'inchiesta del presunto innalzamento dei costi di ristrutturazione dell'edificio, lievitati da 3 a 18 milioni. A dover affrontare verosimilmente un nuovo processo in corte d'appello. Giuliano Genitti all'epoca dei fatti responsabile del procedimento, Lorenzo De Feo direttore dei lavori e l'ex provveditore Giovanni Guglielmi e Carlo Clementi rappresentante dell'amministrazione per conto della quale aveva sottoscritto il contratto con la ditta. Secondo il PM i quattro avrebbero violato le normative in materia di appalto pubblico fra tutti quelli della libera concorrenza che avrebbe permesso senza alcuna gara di far lievitare i costi del 455% e che portarono al secondo contratto di riappalto senza alcuna gara. Violata, sempre secondo il procuratore capo, anche la norma che permette di derogare al principio di evidenza pubblica quando l'estrema urgenza non è compatibile con i termini imposti dalle procedure del bando di gara. Inoltre si è omesso di considerare in sede di iniziale progettazione dell'intervento la necessità dell'adugamento sismico delle strutture dell'edificio circostanza prevedibile facendone invece oggetto di un secondo progetto per 18 milioni e mezzo. Sempre secondo Gallo ricorre nell'atto impugnato anche il dolo che sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rese dallo stesso ex sindacato del procedimento Franco Braga che ha fatto parte del comitato tecnico amministrativo in relazione alle opere della questura secondo cui lo stesso Giovanni Guglielmi, membro dello stesso CTA gli avrebbe dichiarato l'intenzione di assegnare i lavori alla Inteco poi sostituita da altra società.